C'è il modo di riscrivere il programma in C++ utilizzando l'istruzione iterativa con controllo in testa. Questa istruzione è eseguita dal comando while. Lasciamo invariata la prima parte del codice, sostituiamo a if il ciclo while. Tra parentesi scriviamo la condizione ricordandoci che deve essere falsa per eseguire il ciclo. Nel nostro caso è contatore maggiore di esponente. Il ciclo esegue i comandi all'interno del corpo fino a quando la condizione è vera. All'interno del corpo abbiamo lasciato invariato il ciclo for che esegue il calcolo della potenza. Terminato il ciclo viene visualizzato sullo schermo il risultato.